Sindaco, all'inizio 2021 partirà anche un nuovo piano assunzionale per il comune di Roseto degli Abruzzi, dato che ci saranno otto pensionamenti tra tutti gli uffici del comune. Sì, il comune di Roseto, come anche altri comuni, per una triplice congiuntura, cioè per il lungo blocco del turnover, delle assunzioni che si è protratto per anni a fine di risparmio dei bilanci comunali, blocco delle assunzioni, poi quota 100 che ha portato molti dipendenti a chiedere il pensionamento e poi oggi blocco dei concorsi a causa del Covid. A causa di queste congiunture il comune di Roseto, come tanti altri comuni, si è trovato sguarnito del personale necessario per mandare avanti gli uffici e quindi noi abbiamo nel piano assunzionale già nel 2020 predisposto una serie di assunzioni. In particolare abbiamo previsto un dirigente tecnico e un dirigente per la ragioneria, abbiamo preveduto un vice dirigente per la ragioneria, abbiamo previsto un funzionario di categoria D all'urbanistica, un altro funzionario di categoria D al demanio e al commercio, una C alla ragioneria, una C all'anagrafe, abbiamo cercato poi anche a livello di operai, un elettricista, è previsto l'assunzione di un elettricista per fare un piccolo nucleo di pronto intervento del comune, si è cercato quindi di iniziare un percorso di ricostituzione dell'organigramma di questo comune. Quest'opera di ricostituzione del quadro di personale dovrà andare avanti nel 2021 e nel bilancio 2021 preventivo sarà a mia cura fare un piano assunzionale estremamente analitico e copioso per continuare in quest'opera di ricostituzione dei quadri e del personale. Anche nel 2021 dobbiamo quindi rifare un piano assunzionale molto molto ardito. Nello stesso tempo sottolineo la forte criticità che abbiamo a livello di polizia municipale, anche da questo punto di vista il piano assunzionale 2021 dovrà provvedere perché la situazione della polizia municipale ridotta ormai a 9-10 componenti è una situazione che non è più tollerabile. Per tamponare nell'emore dell'espletamento del concorso noi ricorreremo quest'anno conto di farlo in anticipo rispetto agli altri anni ricorreremo agli assunzioni di vigili stagionali.